ciao oggi vi faccio vedere il pacchetto che mi è arrivato di nabla ho ordinato ieri mattina e stamattina alle 11 me l'hanno consegnato me l'ha consegnato gls quindi sono stati velocissimi era tanto che volevo fare un ordine quindi ho approfittato della promozione quella che c'è adesso sugli ombretti scontati del 10 per cento e la spesa di spedizione sono del 50 per cento in meno e se no superiori 49 95 sono gratuite io ho fatto un ordine di 55 euro quindi ho ricevuto il pacchetto con le spese di spedizione gratuite e adesso vi faccio vedere che lo spacchiamo allora c'è una cartolina della nuova collezione solaris e praticamente questi ombretti erano quasi tutti sold out quindi io sono riuscita a prendere di questa collezione qua solo viola allora andiamo a vedere c'è tutta la carta ecco qua ci sono tutti gli ombrettini li ho presi i refill praticamente e con sei refill c'era la palettina in omaggio con la magnetica quindi ho preso le sei refill scontate e invece che sei e qualcosa non mi ricordo comunque scontate del 10 le ho pagate 585 direi e dopo le apro che ve le faccio vedere eccola qua c'è la palettina che piccola poi ho preso un lip gloss che questo è il magazine e poi ho preso un liquid tech lip color che ho preso il tiger qua e in omaggio con questo davano la matita ghost per fare il contorno labbra questa qua era omaggio quindi palettina omaggio ogni sei refill e la matita omaggio con il lip color direi basso questo è tutta carta adesso stacco un attimo e poi vi faccio vedere gli ombretti eccomi qua allora gli ombretti ho preso interference adesso non li sto tutti ad aprire perché non ce la faccio perché ho la fotocamera in mano quindi ve li faccio vedere così poi vi farò magari una review più dettagliata comunque ho preso l'interference che è questo afrodite questo rame extravergine viola oliva poi glitz comunque li suoccio ormai in rete si trovano ovunque io me ne sono guardati tanti prima di prenderli e li avrei presi tutti però mi sono fermata a sei allora caramel questo e questo della nuova collezione solaris che è un attimo che mettiamo un po' a fuoco un attimo che mettiamo un po' a fuoco catleia questo viola bellissimo la palettina è lei tutta piccola però proprio è comoda anche da portare in viaggio magari per quest'estate poi il questo è il lip gloss e questo è il lip color tutti e due bei fucsia belli carichi adesso li provo poi dopo vi faccio sapere le recensioni più dettagliate e più avanti quando avrò modo di provarli a modo ciao